Musica Torna a riunirsi il Consiglio regionale che dovrebbe decidere sul problema dei parcheggi dei Lidi che rischia di impantanare l'estate e sullo sfondo i nodi politici di Forza Italia. Puglia maglia nera sul fronte dell'inquinamento del mare e al secondo posto solo dopo la campagna per reati connessi a inquinamento, gestione rifiuti, scarichi in mare e mala depurazione. Lo dice il dossier di Lega Ambiente. La legge regionale pugliese Salvaricci è indispensabile, preoccupanti invece sono le motivazioni dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri. Così l'Associazione Italia Nostra intanto arroca nei guai due pescatori pizzicati con le mani nel sacco. I finanzieri di Gallipoli rompono in una maxifesta abusiva in una villa galatina con prevendite, privè, parcheggiatori, security e un rapper di fama nazionale. Tutto imbarba la legge, dentro circolava anche droga. Cantiere intorno all'anfiteatro a Lecce, turisti disorientati, titolari di bar e commercianti dicono i conti non tornano, non solo per gli incassi diminuiti ma anche per i lavori che procedono a rilento. Sabato 1 luglio a Lecce sfilerà il Pride, attesi in migliaia per colorare la città di Lecce e vivere insieme a una festa che chiede come sempre attenzione ai diritti della comunità LGBT. A Salice è inaugurato un Lecce Club intitolato all'amato collega Sergio Vantaggiato scomparso nel 2007. La motivazione? Una decisione di cuore e di passione per tenere sempre vivo il suo ricordo. Il Lecce dopo aver perso Falcone contro riscattato dalla Sampdoria cerca un portiere. In Rosa ci sono bleve in scadenza il prossimo 30 giugno, Brancolini e Borbei, ma Corbino e Trinchera sono al lavoro per fare arrivare nel Salento un altro estremo difensore.